ben ritrovati in questo video cari amici del canale oggi andremo ad analizzare l'assemblaggio finalmente di un mega impianto mani ovvero 4 batterie da 15 kilowattora oltre 15 kilowattora che vengono sommate in parallelo e quindi abbiamo 60 kilowattora di energia disponibile è il mega impianto della mani ovvero utilizzeremo per questo impianto il toroidale 10 kilowatt ampere ovvero 8 kilowatt di potenza massima e avremo un impianto veramente molto molto potente con questo potremo fare andare tutta la casa potremo anche caricare l'auto elettrica tutto chiaramente sempre dosato vi ricordo che gli inverter non vanno mai utilizzati oltre 70 75 per cento massimo e qualsiasi essi siano e la cosa interessante di questa playlist e vi invito a visitarla è proprio il fatto che vogliamo fare un impianto sobrio sempre in fai da te c'è l'installazione dei pannelli c'è il combiner box e poi arriviamo alle batterie e l'inverter e le batterie faranno tutto loro quindi è questo impianto un'agevolazione per quelli che vogliono fare un fai da te un po più in sicurezza perché non si montano le batterie da sole vi ricordo che le batterie litio ferrofosfato come tutte le litio hanno bisogno del bms dell'equalizzatore attivo obbligatoriamente e quindi quando fate un fai da te non tutti gli amici del canale se la sentono ecco che da qui nascono proprio le batterie già pronte all'uso da assemblare insieme a tutto il resto vi invito ragazzi a visitare le mie playlist a dargli un'occhiata perché ci sono tanti spunti e tante idee sono veramente tante perché questo canale vuole insegnare a produrre la propria energia elettrica e quindi non c'è solo un impianto due o tre dedicati a qualcosa di specifico ma è molto vasto e lo scibile della conoscenza il mio possesso viene tutta buttata sul canale in modo da soddisfare tutte le richieste ci sono impianti avete visto uno degli ultimi video minimalisti proprio in emergenza poi ci sono impianti più significativi fino al mega impianto con tante batterie tanta potenza inverte molto grossi c'è il mega impianto della victron che va avanti anche lui ebbene questo è il manì ovvero un impianto semplice ma molto potente ragazzi qual è la massima potenza che possiamo utilizzare è esattamente quella che ci serve a casa nostra diventiamo tutti sempre molto energivori quando abbiamo un impianto fotovoltaico perché cominciamo a consumare la corrente gratis il sole ce la regala e quindi buttiamo energia fuori dalle batterie ma dobbiamo anche buttarla dentro quindi vi ricordo le proporzioni tra pannelli batterie inverter assorbimento tutto deve essere sintonico in modo da non creare situazioni anobole che possono anche dar fastidio ad alcuni elementi oppure trovarci senza corrente ci sono impianti off grid totalmente come consiglio sempre su questo canale e ci sono impianti parzialmente off grid cioè noi preleviamo dalla rete solamente quando le batterie sono esaurite non c'è mai una connessione tra rete e off grid difatti off grid si estrapola dall'inglese che significa fuori dalla rete ragazzi buona visione un impianto molto bello anche molto elegante da posizionare bene e consiglio sempre un locale tecnico o un angolo della vostra casa che non sia proprio in mezzo a dove vivete perché si tratta sempre di corrente ci possono essere bambini animali quindi tutto va sempre posizionato nel migliore dei modi ragazzi buona visione andiamo avanti vedrete adesso la fatica che ho fatto nel sollevare ovviamente non da solo perché la quarta batteria da 100 110 kg circa 115 che ho dovuto sollevare al quarto piano di queste quattro è stata veramente dura quindi ragazzi non spaccatevi la schiena e fatevi aiutare potete fare un impianto con una batteria l'inverter attaccato al muro o con due sul muro tre sul muro quattro sul muro ma in questo video l'avete già visto nella presentazione lo farò col totem che roberto di roma ha realizzato di cui trovate anche qua sotto il link nel caso vogliate farvelo fare anche voi se invece siete saldatori allora via alla grande con questo extra fai da te buona visione ragazzi ecco arrivate altre due batterie della manida 15 kilowattora una l'ho aperta l'altra invece ancora chiusa per farvi vedere in quale contenitore arriva tutto di legno su pallet con protezione metallica tutta sugli angoli sono un trasporto veramente di qualità e tra l'altro devo dire che questa cassa ovvero queste due casse le terrò perché possono essere molto molto utili per posizionare all'interno diversi prodotti che possono essere inverter o attrezzi e queste saranno montate esattamente sulle altre due che avete visto nel video precedente e sono queste due più altre due sopra diventano 4 più l'inverter in cima da 10 kilowatt ampere praticamente un impianto maxi tower all in one tutto autocostruito e procediamo con il montaggio qui vedete le quattro batterie impilate vedete che le due sotto sono quelle precedenti la mania ha voluto semplificare il logo lo vedete sulla sinistra e sopra ci sono le due nuove appena arrivate e sopra ancora ci sarà adesso il posizionamento dell'inverter ebbene c'era una minima tensione una minima differenza di tensione tra le batterie e vediamo come si sta comportando il 6 plus per caricare attraverso questo ormai lo conoscete benissimo se andiamo a zoomare qui sulla sullo schermo vediamo 53,42 volt 15 ampere e mezzo l'altra uguale è 53,41 quindi similare con 16 ampere 30 ebbene le due appena arrivate leggermente più cariche ebbene il 6 plus va a ridurre a 1,43 per mantenere la stessa tensione e quella sopra anch'essa 1,45 da questo capite che i due 6 plus superiori di questo parallelo scusate che metto a fuoco stanno andando a ridurre totalmente la corrente in ingresso ora il 6 plus non è un potenziometro non funziona come un potenziometro perché i mosfet sono degli interruttori on off quindi bloccano una percentuale in ingresso per permettere alle celle di bilanciarsi questo non sarebbe stato possibile con i precedenti impianti sui paralleli ad esempio con i daily perché perché personalmente non mi fido non mi fidavo a questo punto tutto in sicurezza 16 ampere in questa batteria la prima 16 circa nella seconda e uno e mezzo uno e mezzo nelle altre due ma questo deve avvenire comunque quando abbiamo portato le due batterie alla stessa tensione simile difatti la differenza che abbiamo rilevato era le due sopra circa 53 e 43 e 44 e sotto 53 e 41 cioè stiamo parlando veramente di una differenza minima eppure cambia totalmente l'amperaggio non vogliamo far prendere queste celle degli shock in corrente elevati questo è perfettamente il funzionamento quindi le celle cercano l'equitensione cercano di bilanciarsi ma il seplus riduce l'ingresso un'altra cosa che vogliamo guardare insieme ragazzi è il shock lo state of charge vedete che è 54 e 65 con la stessa tensione di tutte le altre batterie guardiamo la seconda che è sempre 57 e 78 similare ma guardiamo le due più nuove che sono arrivate un pelino più cariche dalla sede mai utilizzate come le altre due che invece avevo utilizzato il laboratorio bene lo state of charge il shock è 96 e 70 sia questa che questa ebbene non è possibile che ci sia tutta questa differenza nel shock ma la tensione quasi identica a 53 e 46 ebbene questo sta a significare proprio che è la tensione che guida la carica e il shock di quelle due utilizzate da me sotto non sono mai state caricate al 100% invece sono andate per diversi mesi up e down invece sopra no e quindi finché non arriverò a caricare per tensione tutte le batterie alla stessa identica maniera il shock non andrà al 100% quindi non ci sarà quello che è un azzeramento totale del shock per rendere uguale identico a tutte e quattro le batterie da lì inizierà a muoversi ancora in salita in discesa ma ogni tanto dovremo sempre caricare al massimo per avere l'azzeramento vi ricordo che il massimo sui 6 plus così come sono stati impostati potrebbe essere 98,2% per poi sbalzare al 100% quindi vedremo una similitudine sulla percentuale a 98,2% dopodiché ci sarà il 100% un'altra cosa interessante la vediamo qua dove si sta prelevando 7,10 ampere qui sulla seconda 7,21 mentre la terza che è leggermente più bassa sta prendendo più di 7 ampere e la quarta anche sta prendendo circa 6-7 ampere quindi le due con tensione più bassa stanno prelevando adesso dalle due con tensione più alte questo perché le celle vogliono andare in equitensione e questo a fronte anche di sgancio dell'alimentatore quindi in questo momento l'alimentatore è spento, è fermo quindi non si stanno alimentando le celle vedete qua c'è un positivo di 6,56-55 ampere mentre le due in alto leggermente più cariche stanno dando questi 6,5 ampere una volta riacceso l'alimentatore vedete che dato che quello è 35 ampere molto potente sta dando 2 ampere nella prima batteria sta dando 2 ampere circa nella seconda batteria ma le due più basse le sta arricchendo con 15,4 e 15,06 ampere ecco il comportamento del 6 Plus questo a fronte di accensione dell'alimentatore che sia ovviamente una carica arrivante anche dai pannelli è la stessa identica cosa ho lasciato le batterie connesse tutta notte senza alimentazione, connesse tra di loro e quindi la corrente che usciva dai due pacchi nuovi entrava negli altri leggermente usati e si bilanciava il SOC è sceso a 88,50 la stessa cosa la seconda batteria vedete SOC similare, tensione similare 1 ampere uscente invece le altre due ricevono energia difatti sono a più 0,92 ampere e il SOC è 78 si stanno bilanciando in SOC, in tensione però il SOC non sarà mai uguale non sarà mai affidabile al 100% finché non le porterò tutte e quattro alla carica massima adesso voglio farvi vedere il retro di queste batterie per farvi vedere tutte le connessioni dopodiché passeremo a una carica totale attraverso l'alimentatore che oramai conoscete benissimo ovvero questo intanto vi faccio vedere le griglie posteriori che saranno messe una volta sistemati tutti i busbar e tutti i cavi di connessione e questi sono proprio i busbar che la mani usa che sono dei lamellari molto molto spessi quindi molto conduttivi ricoperti di questo materiale isolante anch'esso molto abbondante quindi diciamo una connessione veramente di qualità superiore ragazzi queste griglie molto eleganti sulla nuova versione e adesso andiamo dietro a vedere tutto il resto qui siamo sulla parte posteriore dove ci sono le connessioni che sono questi busbar lamellari di rame molto spessi e conducono veramente veramente bene qua vedete anche i cavi che connettono le comunicazioni quindi l'RS485 e qui ve lo faccio vedere dall'alto in questa posizione verticale molto molto belle le connessioni per trasportare ovviamente tutta la corrente che serve qui c'è la presa Anderson ovvero ho connesso questa Anderson con l'alimentatore con questo caricabatterie che già conoscete sul canale e questo l'ho connesso esattamente a un generatore esterno al laboratorio che sentite probabilmente anche in sottofondo funzionare qui la carica è veramente sostanziosa questo carica 1800 watt e vi faccio una panoramica generale ragazzi qui vediamo tanta potenza ma anche tanta eleganza è un impianto veramente bello piacevole da costruire da fare qui ovviamente manca adesso il combiner box l'inverter lo vedremo nel prossimo video il montaggio totale completo di tutto non solo estetico ovviamente ma anche tutta la potenza che serve a casa nostra questa è l'ultima panoramica ragazzi spero che il video sia stato interessante adesso torno sulla scrivania tanto amata per i saluti finali buona visione anche per il prossimo video è tutto anche per questo video avete visto eleganza avete visto potenza avete visto efficienza un prodotto veramente di altissima qualità c'è il link qua sotto della mania se volete acquistare queste batterie già pronte all'uso che non devono essere toccate già autoconfigurate dovete solo attaccare i cavetti giusti e l'impianto funziona fatevi sempre aiutare se non siete esperti ragazzi anche se l'impianto è semplice soprattutto nel posizionamento dei pannelli che io consiglio sempre di fare stringhe a bassa tensione non fatevi infatuare da coloro che con faciloneria consigliano le stringhe da 300-400 volt è un lavoro un po' più semplice ma molto più rischioso risparmiate solo qualche cavo in più qualche porta fusibile ma ne va della vostra sicurezza ragazzi soprattutto quando gli impianti invecchiano sul tetto si accumulano foglie residui di prodotti purtroppo infiammabili e in estate quando tutto diventa caldo tutto diventa produttivo se si sgancia un MC4 e succede ebbene questo arco voltaico può farvi bruciare il tetto lo dico perché succede e succede quasi solo esclusivamente con impianti a tensioni alte la faciloneria su questo canale non c'è preferisco essere più conservativo preferisco farmi dire da voi ma ragazzi Gianni mi sembra che esageri un po' sì voglio un po' esagerare perché prima di costruire un impianto fotovoltaico ci tengo a farvi diventare vecchi bene ragazzi io quasi lo sono oramai ci sono arrivato con la sicurezza fino ad oggi e vi saluto se il video vi è piaciuto ragazzi se vi è stato utile iscrivetevi a questo canale e ci vediamo al prossimo dove vedremo proprio il montaggio del toroidale su questa torre su questo max impianto mega impianto della Manì e andiamo avanti così ragazzi che mi state dando grandi soddisfazioni grazie a tutti grazie a tutti